Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Cineo, ho 27 anni e sono residente a Francavilla al Mare. Il mio progetto inizialmente è quello della camminata a piedi lungo l'Italia, non comprendeva inizialmente associazioni di volontariato, poi però tramite amici miei ho pensato, ma effettivamente perché non cogliere l'occasione per fare un po' di pubblicità ad associazioni che magari hanno bisogno? E mi è venuta in mente l'Avis perché io sono un donatore abituale, e ho presentato una bozza di progetto al presidente dell'Avis di Francavilla al Mare. Il consiglio direttivo ha approvato il progetto, è piaciuto molto e mi hanno sponsorizzato, mi hanno dato l'attrezzatura, zaino, sacco a pena, ma niente, quello di cui avevo bisogno e sono partito da Marsala in Sicilia. Io tramite questo viaggio, oltre a fare pubblicità all'Avis, si colgo anche l'occasione per visitare il mio paese che non ho mai avuto modo di visitare per bene. E ho scelto la Sicilia perché Marsala è una delle città più a ovest d'Italia e diciamo che partendo da Marsala ho avuto l'occasione di visitare tutta la costa sicisiana, anche se mi manca la parte meridionale. Poi sono sbarcato a Villa San Giovanni e da lì ho iniziato a risalire la penisola verso nord. Ho incontrato tanta ospitalità, ho fatto un sacco di amicizie, ho incontrato bellissime persone e devo dire che ogni giorno questo viaggio mi piace sempre di più. Quanti chilometri fatti fino adesso? Fino adesso siamo 980-990 circa, quindi quasi 1000. Intende farne quanti? Ancora 2000, circa 2000, sono 1900 in realtà, quindi sono in tutto 2900 chilometri. Complimenti e buon viaggio, grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie.